Cialde Italia Grosseto è specializzata nella produzione e vendita di cialde e capsule compatibili con le principali macchine da caffè in commercio. Puoi trovare una linea completa di prodotti compatibili di alta qualità, acquistare direttamente in negozio oppure online. Gli ordini saranno consegnati in 24-48 ore, con corriere espresso in tutta Italia. Cialde Italia. Caffè per passione. Il vantaggio di comprare dal produttore. Grazie.